Ciao a tutti, come attrarre un uomo? In questo video voglio spiegarti come attrarre un uomo. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte. E veniamo ora al tema, come attrarre un uomo. Allora, è molto importante sedurre gli uomini per una donna, cioè far sì che un uomo poi sia attratto successivamente da te e tu quello che devi fare inizialmente è porre, diciamo, il contatto, stabilire un contatto di natura non verbale per indurre l'uomo poi a corteggiarti. Quindi l'obiettivo di una donna deve essere proprio quello di riuscire a indurre un uomo nel corteggiamento. È molto importante per fare questo utilizzare il linguaggio del corpo. Sicuramente il sorriso è fondamentale, quindi usare il sorriso è fondamentale, cercare il contatto fisico è fondamentale, cercare di avere una comunicazione non verbale aperta è importante. Se stai tutto il tempo chiusa col broncio a guardare verso il basso, beh, difficilmente riuscirai ad attrarre l'attenzione, ma soprattutto anche se attrarrai l'attenzione non genererai coinvolgimento, quindi devi tenere un linguaggio non verbale aperto. Devi giocare con i tuoi cappelli, i cappelli sono molto importanti, quindi ravvivali, muovili, perché emettono anche ferormoni e quindi questo è molto importante. Dimostra sicurezza in te stessa, quindi dovresti sempre anche avere un abbigliamento seduttivo, sensuale, seducente. Questo va a, diciamo, a generare una sicurezza dentro di te. Quindi questo è molto importante. Tieni presente che il linguaggio non verbale rappresenta la parte principale della comunicazione rispetto a quella verbale e poi quella verbale ha comunque tutto il paraverbale che è molto importante, anche il tono di voce. Il tono di voce deve essere un tono per una donna non né stridulo, né anche eccessivamente baritonale, diciamo. Deve essere un tono comunque squillante, questo è fondamentale. Utilizza il sorriso, il sorriso è un'arma potente e soprattutto lo sguardo e il sorriso sono due punti fondamentali. Perché, diciamo, fanno capire che c'è un coinvolgimento, però nello stesso tempo ti fanno anche percepire come una donna da un punto di vista aperto, ti fanno vedere come una donna sicuramente attraente e anche una donna che può attraere anche gli altri. Perché tieni presente che l'effetto poi, diciamo, preselezione è molto importante. Una donna allegra, sorridente, in un contesto sociale attirerà un po' l'attenzione di tanti uomini. E tieni presente che anche il fatto che tu possa attraere altri uomini diventa un potente strumento di attrazione proprio per l'uomo che ti interessa. Questo è molto importante. La postura di una donna, a differenza di quella dell'uomo, deve essere molto diversa. Ci sono due, diciamo, luoghi, due momenti con cui puoi attraere molto. Stare seduta. Stare seduta devi necessariamente tenere le gambe cavallate. Molto meglio avere una gonna rispetto ai pantaloni, non troppo corta, ma il piede di sopra intanto deve puntare verso l'uomo che ti interessa. Quindi se siete seduti, ad esempio, a fianco, la gamba cavallata deve essere quella sopra, col piede che punta verso di lui. Perché è un atteggiamento di apertura. E poi deve essere leggermente sollevata rispetto a quella di sotto perché in questo modo rende la gamba molto, molto più attraente. È molto importante anche che emetti dei segnali di gradimento emotivo che capirà soltanto la sua parte emotiva, non la sua parte logica. Quindi toccati spesso le labbra, mordicati le labbra o metta le labbra. Tutto quello che fai attorno alle labbra, diciamo, è molto importante. Guardalo negli occhi, poi distogli lo sguardo. E quando distogli lo sguardo è un segnale molto importante. Cerca di cogliere se lui continua a guardarti. Se lui continua a guardarti, questo puoi utilizzarlo, verificarlo utilizzando la vista periferica. Quindi con la coda dell'occhio, diciamo, tu puoi tenere questo controllo. Perché se lui ti guarda anche quando tu non lo stai guardando, questo è molto importante. Per quanto riguarda i capelli, gioca con i capelli perché se hai capelli lunghi è meglio, però spostali sulla spalla, buttali indietro, spostali mentre parli in questo modo. Sono tutti segnali che attraggono molto il maschio e soprattutto anche parli che emettano più facilmente ferormoni e quindi questo è molto, molto, molto importante. L'abbigliamento ovviamente è una fonte potente di attrazione, però ovviamente devi essere, non devi essere eccessivamente, diciamo, scoperta perché questo non produce nulla di buono. Ovviamente è meglio, ovviamente, degli abiti attillati, non provocanti, un po' di décolleté, un vestito che mostra un po' le gambe, ma deve essere tutto abbastanza, diciamo, non deve innescare meccanismi di squalifica. La gonna non deve essere eccessivamente corta da, diciamo, farti squalificare, ma non deve essere neanche eccessivamente lunga da non generare interesse. Poi un altro momento topico è la camminata. La camminata di una donna è molto, molto importante, la camminata deve essere sensuale, seducente e leggermente ancheggiante. Quindi cerca di camminare lasciando che quando cammini le caviglie si sfiorino, in modo tale da muovere un pochino le anche e dare, far sì che l'uomo naturalmente porti l'attenzione sul tuo lato B. E questa è un'altra tecnica molto, molto importante per produrre seduzione. Bene, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite lave, le quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti!